Qui a Nova Feltria, centro di coordinamento della protezione civile e dell'unità di crisi, l'appello del sindaco sembra essere stato rispettato. Non si vedono macchine in giro, soltanto pochi pedoni e molti volontari con il badire in mano. Noi facciamo il più possibile, andiamo dove c'è bisogno. Poi abbiamo un centro che ci coordina, che ci tiene sempre informato sulle zone più a rischio e ci teniamo a disponibilità loro. Siamo in una fase ancora di lotta, direi di essere tutti uniti, di lavorare assieme. Sto loddando i volontari, ne abbiamo avuti tanti, gente a cui va il mio massimo in comio, la solidarietà e chiedo di impegnarci ancora di più e chi ha capacità e forza di rendersi e mettersi disponibile a servizio della comunità. Poi in futuro se ci saranno provvedimenti da prendere nei confronti di chi male si comporta, certamente saranno presi, però adesso è il momento della solidarietà. In Val Marecchia sono 159 le persone evacuate dalle loro abitazioni. Continuano gli studi di stabilità negli edifici, in particolare è chiusa la ditta Val Farma di Ponte Messa per interventi di messa in sicurezza del soffitto del reparto di produzione. La struttura ha cominciato a cedere sotto il peso della neve e si è reso necessario l'intervento del genio civile di Rimini. Peggio è andata l'azienda agricola Tosi. 180 metri di copertura è crollata, 16 mucche sono rimaste sepolte sotto le macerie. La tradizione dice che con la neve gli abitanti di Pennabilli siano come le lumache con la pioggia, escono tutti allo scoperto. Allora, vedere Pennabilli in questo stato, così, bianca... Ma io l'ho vista tante volte. In partenza con questo tempo? Eh, ci provo, faccio rientro a casa se è possibile, non so se arriverò a destinazione. Siamo nel disastro completo, non sappiamo dove metterla, il dramma è quello. Le autorità insistono nel dire di non mettersi in movimento se non strettamente necessario e soltanto con autoveicoli adeguatamente attrezzati. In questo momento sono venuti a salvarci e ci tireranno fuori dal fossato. Queste cose, come vedete, succedono a tutti.